Al via il 22 luglio la quindicesima edizione del festival di teatro di figura La Leggenda della Grigna che porta nei comuni della Valsassina spettacoli di burattini per le famiglie. Primo appuntamento a Bellano con lo spettacolo Le avventure di Pinocchio della compagnia Il Cerchio Tondo, organizzatrice della Rassegna. La Leggenda della Grigna si struttura diciamo come un festival organizzato in collaborazione con la comunità montana della Valsassina, Valvarrone e Valdesino. Sono spettacoli rivolte ai bambini, alle famiglie, di compagnie che provengono dalle varie regioni d'Italia. Alcuni spettacoli sono rappresentati dalla nostra compagnia. È un onore lavorare per i bambini, è una gioia vederli contenti. Qual è il burattino che preferiscono di solito? È l'eroe, insomma, l'eroe è quello che affronta le difficoltà, che va in difficoltà, però alla fine trova il coraggio di superare le proprie paure soprattutto. Il festival vede il contributo del Fondo Sostegno Arti dal Vivo, costituito da Acelle Energie, L'Ario Reti Holding e Fondazione Comunitare del Lecchese. Siamo molto soddisfatti di aver potuto offrire il nostro concreto sostegno per queste iniziative ed altre ancora. Un teatro oltetutto che si rivolge ad un pubblico particolarmente selezionato, molto esigente, che è rappresentato dai bambini. Come sappiamo i bambini devono subito essere attratti. Chi tiene le fila in tutti i sensi, non soltanto dei pupazzi, ma anche dello spettacolo, deve sicuramente essere persona particolarmente abile. Una tipicità, una specificità, ecco, quella del teatro di figura, della quale non vogliamo fare a meno, anche perché è giusto che il progetto culturale, l'offerta culturale presente sulla provincia di Lecco sia varia e articolata. Già in corso dal mese di giugno la rassegna provinciale I luoghi del lago e dei colli, che invece porta al teatro dei Burattini nei comuni lariani. Una ventitresima edizione ricca di appuntamenti fino a fine settembre, con qualche novità. Quest'anno abbiamo un evento speciale sull'isola dei Cipressi, organizzato in collaborazione con la Proloco di Bosisio, e ci trasferiremo proprio sull'isola per uno spettacolo. Con il traghetto ci sarà una piccola visita guidata sull'isola e alla fine lo spettacolo. Tutte le notizie le trovate anche sul nostro sito che è www.ilcerchiotondo.it www.ilcerchiotondo.it www.ilcerchiotondo.it